wow eccoci qua ben ritrovati in questa camera tranquilla di albergo dopo una giornata e pasquale bella intensa possiamo dire che oggi si è completato il giorno 1 di questo chatbot summit di berlino una giornata super calda e carica di contenuti un po freschetta fuori freschetta fuori ma calda dentro full immersion in inglese pasquale abbiamo parlato in sostanza sette ore in inglese ne abbiamo capite 4 5 tentiamo 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 però tanti contenuti partiamo subito perché nel pomeriggio ci sono tenuti molti workshops di 20 minuti in cui le aziende potevano raccontare del use case dei business case interessanti e ne abbiamo intercettati per voi quattro nello specifico sì il primo è stato quello di bmw poi bmw esatto audio codes poi siamo passati a telecom deutsch telecom esatto vodafone e di queste quattro abbiamo registrato due puntate speciali con interviste dirette agli proprio ai protagonisti con dei demo che ci hanno mostrato di audio codes per la parte vocale di come una un voice bot può rispondere al telefono per prendere l'ordinazione di una pizza abbiamo ordinato una pizza esatto esatto in realtà è stata una cosa simpaticissima poi questa ci teniamo insomma a fare un riepilogo oggi di quella che è la giornata come giustamente sta ricordando giacinto ci saranno delle puntate dedicate a queste a queste demo e a queste interviste e quindi bmw e audio codes sono sicuramente su tutti e sicuramente diciamo la parte delle puntate specifiche sono audio codes e telecom ma partiamo da bmw che ho seguito direttamente è stato la dimostrazione di come un marketing manager di bmw ha raccontato un'esperienza di un chat bot che si chiama waka realizzato con tecnologia microsoft che ha l'obiettivo di rendere la comunicazione interna tra i dipendenti molto piacevole di cui pasquale volevo raccontarti questa visione che loro hanno è un sistema che nel 2024 diventerà un intelligent personal assistant per cui sostituirà tutte le operazioni di altro tipo a cosa serve waka waka da la possibilità tramite un'unica interfaccia di poter organizzare un meeting con un collega di poter prenotare una camera una sala per una sala riunioni non una camera di albergo di poter fare una ricerca una barra di ricerca per cercare le con base alle competenze quella persona giusta da chiamare all'interno dell'azienda ricevere daily news dall'assistente waka e chiedere aiuto per consulenze interne all'azienda un'esperienza che a quanto dicono loro sta portando grandi risultati per cui anche questa volevamo segnalarvela per chi volesse creare un assistente virtuale piuttosto che esterno per parlare con i clienti anche per parlare con con chi all'interno invece vodafone com'è andata vodafone ha portato il suo cavallo di battaglia nel negli assistenti virtuali nel chat voto ovvero toby 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 è l'assistente virtuale marchiato vodafone che praticamente si sta sostituendo o meglio sta incarnando una vera e propria persona all'interno dell'ecosistema vodafone e con 15 milioni di conversazioni al mese in europa 15 milioni di conversazioni al mese dati italia un milione di conversazioni al mese cercheremo di beccarlo in qualche maniera per un approfondimento ci abbiamo provato oggi ma è stata veramente dura per lui insomma è stato assalito da dalle domande poi nel tardo pomeriggio quindi anche questa è una grande bella esperienza invece di telecom deutsch telecom avremo un'intervista con bianca leurman che è la responsabile del progetto rcs di per deutsch telecom in germania questo nuovo mondo di approcciare gli sms un'unica applicazione quella proprio del messaging del telefono per poter dialogare con le aziende ricevere informazioni prenotare un biglietto di un treno richiamare un biglietto dell'aereo per fare il check in insomma servizi che vedremo a detta di di bianca nel 2020 qui in germania in italia per quello che sappiamo team ci sta lavorando vodafone già pronto diciamo che nel tardo 2020 qualcosa dovrebbe iniziare a muoversi ma sicuramente un mercato da tenere d'occhio è una figata io ho visto la demo è veramente veramente una figata bello un mercato che riparte quello degli sms no e sì chissà che magari qualche player che ha una bella esperienza rispolvera un po l'attività di sms bene allora restate sul pezzo perché domani ripartiamo con una nuova giornata tanti appuntamenti non vi svegliamo nulla ci sentiamo alle 12 12 e mezza per un breve aggiornamento sulla mattinata e poi in serata per la chiusura grazie grazie a tutti che ci state ascoltando fateci sapere magari andate sul sito chatbotsummit.com dove ci sono dove c'è il programma l'agenda della giornata e fateci sapere se magari vi interessa ma anche qualche volete fare delle domande a qualche qualche ospite o qualcuno che lì che sta sta facendo un intervento da speaker e usateci come ambasciatore siamo qui anche per questo il nostro sito è iaspiegatasemplice.it tramite cui potete trovare i nostri contatti email i nostri numeri il mio numero di cellulare e nelle applicazioni di ascolto del podcast per cui puoi iscrivermi via whatsapp per qualsiasi dubbio e curiosità i nostri canali sono sempre gli stessi no? sono sempre gli stessi tutte le piattaforme dove è possibile ascoltare un podcast altrimenti sul nostro sito web iaspiegatasemplice.it si possono registrare? si possono registrare esatto c'è un piccolo box dove potete lasciare i vostri contatti vi arriverà una mail con le puntate ogni qualvolta c'è una puntata fresca fresca bene allora una buona serata fresca qui da Berlino come sempre buona intelligenza artificiale a tutti ciao ciao